Il racconto giallo Il racconto giallo narra la storia di un mistero, un crimine, un furto, un delitto, un rapimento da risolvere. È molto importante creare suspense attraverso descrizioni e dialoghi spesso serrati. E anche grazie all'utilizzo di flashback, colpi di scena, cioè avvenimenti o prove che contraddicono le ipotesi fino a quel momento formulate. Per esempio, il protagonista può farti sentire il pericolo che lui stesso vive mentre spia un pericoloso criminale. Ricordati che in un racconto giallo è sempre presente un enigma, cioè un caso da risolvere, il reato, per esempio un furto di gioielli. Vengono poi raccolti degli indizi e vengono fatte delle ipotesi di risoluzione del caso, che devono essere confermate dalle prove. I sospettati devono dimostrare di avere un alibi, cioè la prova che non si trovavano sul luogo del reato. Per individuare il colpevole si procede agli interrogatori. Il movente è la motivazione che sta alla base di un crimine. Nei gialli sono presenti numerosi personaggi che aiutano a creare una trama avvincente e mai scontata. Il protagonista è spesso chi conduce le indagini, dotato di un intuito formidabile, in genere un poliziotto o un detective privato. Ma potresti essere anche tu, spesso accompagnato da un fedele aiutante. La vittima è chi viene danneggiato dal crimine. I testimoni sono coloro che hanno assistito al fatto. Gli indiziati sono i sospettati durante l'indagine. Il colpevole è colui che ha commesso il crimine. Il racconto giallo è spesso ambientato nel passato in un luogo reale o verosimile, come una casa, una camera d'albergo, una strada, ecc. Leggiamo un esempio. Mi svegliai un mattino trovando Sherlock Holmes accanto al mio letto. Sono spiacente di svegliarla, Watson. È arrivata una signorina che insiste per vedermi. Suppongo che lei avrà il piacere di essere presente. Ha fatto benissimo. In salotto ci attendeva una giovane donna. Buongiorno, signora, disse cordialmente Holmes. La prego, si metta vicino al fuoco, perché mi accorgo che trema. Oh, non è il freddo che mi fa tremare, rispose. È la paura, anzi, il terrore. Aveva lo sguardo smarrito come quello di un animale braccato. Non deve temere, le disse Holmes. Metteremo le cose a posto. Vedo che è arrivata stamani in treno. Come fa a saperlo? Noto nel palmo il suo guanto sinistro e un biglietto di andata e ritorno. Deve aver fatto anche una lunga corsa in calessino, su strade sterrate. La donna sobbalzò con aria stupefatta. Non c'è nessun trucco, disse Holmes sorridendo. La manica sinistra della sua giacca è spruzzata di fango. Soltanto un calesse spruzza fango a quel modo. Ha perfettamente ragione, ammise la signorina. Mi chiamo Helen Stoner. Vivo con il mio patrigno dal temperamento violento e rissoso. Avevo una sorella che è morta due anni fa ed è proprio di questo che desidero parlarle. Cerchiamo infine nel testo le tecniche, i fatti, i personaggi, il luogo e il tempo caratteristici del racconto giallo. un'impero e il tempo space a